Un poster per la pace, si tratta del concorso promosso dalla Lions International che permette agli studenti di condividere con gli altri la propria idea di pace allo scopo di favorire la tolleranza e la comprensione tra le diverse culture. L'iniziativa si svolge anche a Gera. Viene svolta nelle scuole medie, quindi per ragazzi che vanno dall'età da 11 a 13 anni e coloro che vinceranno per ogni scuola andranno avanti col concorso a livello circoscrizionale che significa interprovinciale tra N e Caltanissetta. Dopo questa ulteriore selezione si passerà a quella regionale che sarà a Palermo o a Catania fino a poi accedere alle finali conclusive a Chicago, il premio di 5.000 dollari il primo, poi ce ne saranno altri 23 premi, questo a livello internazionale. Però nelle varie fasi ci sono pure altri premi e anche a Gera ci sarà la manifestazione di premiazione. E come bisogna partecipare? Allora, già abbiamo informato le scuole, i docenti della disciplina stanno interessando i ragazzi, fanno fare i disegni su questo tema della pace e così una volta che noi andiamo a fare assieme agli insegnanti la selezione dei disegni, poi li portiamo avanti così nelle varie fasi. La premiazione dovrebbe svolgersi tra dicembre e gennaio, ma al prossimo dicembre. Il Lions International di Gela ha altre iniziative che saranno al più presto concretizzate. Quest'anno ricorre il centennario della fondazione del Lions Clubs International e allora praticamente tutti i club siamo insegnati e siamo preparati per lasciare un simbolo alla città dove noi praticamente ci troviamo. Questo simbolo che noi vogliamo presentare alla città è la storia di Gela raccontata per immagine, raccontata per immagine con gli acquarelli del pittore Occhipende, tradotte in inglese dalla professoressa Finocchiaro. E quindi noi questa manifestazione cosa intende? Noi la vogliamo dare ai giovani perché nel nostro service c'è di rivolgersi ai giovani perché i giovani sono quelli che tramandano le tradizioni. La manifestazione avverrà a marzo dove noi inviteremo tutti i dirigenti delle scuole ai quali distribuiremo un opuscoletto, uno può fare questo libro pubblicato con un disco in modo che poi loro lo possano anche riprodurre e diffonderlo a tutti. E funziona anche come un marketing per fare conoscere il nostro territorio ai fini del sviluppo del turismo.